Stiamo protestando per la mancata retribuzione degli stipendi sia del 50% di maggio sia per il totale stipendio di giugno. Ieri stanotte siamo stati in azienda, siamo stati impresiti in azienda circa una trentina di operai. Pretendiamo che immediatamente ci vengano dati gli stipendi. Oltre agli stipendi avanziamo sette mesi di ticket, avanziamo altre aspettanze che sarebbero parecchie voci che mancano ancora all'appello della retribuzione. Per cui, torno a ripetere, non chiediamo più, adesso pretendiamo che ci danno tutte le aspettanze arretrate. Diversamente agiremo con la lotta e non so dove andremo a finire. Colgo l'occasione per ringraziare il partito a cui faccio capo, Rifondazione Comunista, che da subito è stato vicino alla lotta dei lavoratori. Anzi, a questo tal proposito ha indetto una conferenza stampa per lunedì alle ore 17, dove abbiamo invitato tutte le forze politiche, sindacali e tutti quanti. È chiaro che a questo punto non ci bastano più le rassicurazioni che ci danno in modo verbale. Chiediamo atti concreti, che potrebbero essere anche proprio l'erogazione degli stipendi arretrati. Ci hanno fatto un concordato preventivo, ci avevano garantito che alla scadenza del giorno 10, che è il giorno con il quale percepivamo lo stipendio, ci avrebbero pagato. Oggi, il primo mese dopo il concordato preventivo, siamo al giorno 19, 20, ma non mi ricordo bene, non si parla ancora di niente. Non si sa, non si sa la data di quando prenderemo lo stipendio. È l'ennesimo momento di emergenza della Rechi Multiservice. C'erano degli impegni dopo il concordato preventivo, che almeno per gli stipendi si sarebbe mantenuto una regolarità e invece abbiamo avuto notizia in queste ore che nemmeno questo adempimento doveroso rispetto a lavoratori che hanno garantito la loro attività tutti i giorni e hanno anche aspettato il pagamento delle aspettanze, comunque non avranno nulla per il momento con un mese e mezzo già arretrato.